E la luna bussò alle porte del buio Fofanà, Fofanà, un curu cu 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 ti infilò Ma tanto lo scudetto lo vinge Antonio Conde Ah ah, e viaggerebbe! Buonasera amici dello Zaccolo Duro Video rapido serale Non ci aspettavamo questo De Bacl della Juventus Gran gol di Fofanà Voglio ricordare un esempio che ho fatto qualche giorno fa Di cui i miei amici mi hanno deriso Ma io ve lo ripeto e ve lo ripropongo E voglio un messaggio qua sotto da parte vostra Siccome mi hanno deriso Mi hanno deriso, allora voglio un messaggio da parte vostra Oggi, non per i prossimi 15 anni Non per il futuro Non per l'età Oggi è più forte dell'It Detto anche busta Il pallavolista che prende le buste Mister 516 Non so se voi lo sapete ma Quando ero giovane io Se prendevi il tunnel Si diceva che dovevi pagare 10 euro 10.000 lire 10.000 lire ai tempi Che sono 5,16 euro Per chi non lo sa per i giovani Quindi si dice anche 5,16 no? Quando prendi un tunnel Che tunnel? Quindi oggi è più forte dell'It O è più forte Super Simon L'insuperabile Lo so Ditemelo voi Io chiedo un pari Eh però Ha segnato Vabbè Fa il difensore Non è che fa l'attacco Fa il difensore Giusto così ve lo dico Fatemi sapere Scrivetemelo Che mi incuriosisce Detto questo Detto questo piccolo sfottore La Juve che tanto Comunque settimana prossima Vincerà il nono scudetto Quindi Chapeau E tanto di cappello A chi vince Perché chi vince Ha sempre ragione Anche se li sfotto Ma io li sfotto per ridere Sono un po' preoccupato Sono un po' preoccupato Per domani Perché Fondamentalmente Abbiamo tante assenze E giochiamo contro La squadra Più in forma Insieme a noi Del campionato Cioè oggi Secondo me L'Atalanta Meriterebbe lo scudetto Tra l'altro Se la gioca anche l'Atalanta Mi sbaglio Se noi Se davano quei rigori Se non davano quei due rigori Fantasma Non lo so come andava a finire Non lo so come andava a finire Comunque Questo è Giochiamo contro una squadra Forte In forma E noi siamo messi Male 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 Ma non tanto Perché non ho fiducia Di chi giocherà Perché li ho visti entrare anche bene Però un conto è fare un cambio Un conto è fare due cambi Un conto è quando ti manca metà squadra Cioè Super Simon dovrebbe esserci Speriamo Mezzo acciaccato Comunque sia Mezzo acciaccato Quindi non in forma Poi c'è Gabbia C'è la Xalt C'è Calabria Che vabbè Tu dici Vabbè Può esserci anche conti Però vabbè Non lo contiamo Calabria Però C'è Calabria Cioè Non è che ha fatto una partita buona Ed è diventato Cafu E che è sempre Calabria Quindi c'è Calabria C'è Gabbia C'è la Xalt C'è Biglia C'è Biglia Non lo so Secondo me Non siamo messi Proprio benissimo Però Sarà una prova Di maturità Proprio una grande Prova di maturità Per i ragazzi Per capire Se Veramente Allora facciamo Vediamo se riesco a spostarmi Dalla luce Perché la luce qua Da fastidio Se riusciamo a fare Questo salto di qualità O sì O no O no O sì O sì O no Io vi dico Non la vedo benissimo Sono preoccupato Per questo Mi sono piaciute Le parole di Pioli Oggi Molto concentrato Sulla partita Non ha voluto nemmeno Rispondere su Ibra Però Ha lasciato intendere Perché lui ha detto Alla fine Ha chiuso la conferenza stampa Dicendo Abbiamo usato Una parola fondamentale Con il mio Rinnovo di contratto Perché si parlava Di Ibra Di Maldini Se restano Eccetera Se gli piacerebbe Ritrovare loro E lui ha detto La parola che a noi ci è piaciuta È Continuità Questo cosa significa Che vuole mantenere Tutti Ibra E Maldini Che poi Maldini Tutto sto dubbio Maldini C'è un contratto Ha vinto la sua linea Non è neanche arrivato Rani Quindi perché dovrebbe andar via Maldini Secondo me Proprio Anzi Lui è un altro contento Quasi come Ibra Ma le vuoi salutare Nel video Non sa che l'aglio va perso Se ne frega niente Se ne frega niente Vabbè Comunque sia Va bene così Adesso mi guardo La Lazio con calma Speriamo in Ciruzzo Per il fantacalcio E anche perché Comunque mi fa piacere Sempre se superano Quelli lì Papà Sono io Stefano Niente Ci vediamo domani Iscrivetevi al canale Sì saluta Ciao Iscrivetevi al canale Lo gioco lo duro Lo gioco lo duro Mettete un like E ci vediamo domani Ciao ragazzi Ciao Curugù popana Curugù Curugù Popana Popana Curugù Popana Curugù